Continua l'attività di prevenzione dei reati da parte della Polizia di Stato di Caltanissetta. Nel corso dell'attività di controllo del territorio, eseguita nel capoluogo in provincia, la Polizia di Stato ha denunciato nove persone all'autorità giudiziaria. Un ragazzo 19enne è stato denunciato per ricettazione, un uomo di 70 per furto aggravato, un 23enne per evasione dagli arresti domiciliari, un 60enne per detenzione abusiva di armi e munizioni e tre persone per atti persecutori. Inoltre altre due persone sono state segnalate perché nel corso di due distinte perquisizioni domiciliari, nelle loro abitazioni è stata ritrovata della cocaina subito posta sotto sequestro dalla Polizia.